Proviamo a capire un attimino come funziona H.NET, che problemi risolve, quindi in che contesto ha senso pensare di usare un framework come H.NET? O meglio, in che contesto ha senso usare un'implementazione di un actor model? Giusto per intenderci, chi è che ha già sentito parlare di actor model e ha avuto modo di giochicchiarci barra farci qualcosa di più interessante? Ok, allora l'actor model, giusto per dare contesto un po' a tutti, mi sentite? Per dare contesto un po' a tutti, è un modello matematico che è stato formalizzato diversi anni fa, negli anni 70, e si colloca nel contesto delle applicazioni concorrenti, ok? Chiunque abbia avuto la fortuna o la sfortuna di lavorare in scenari del genere, sa che gestire accessi a risorse condivise da thread differenti è un delirio, ok? Quindi disseminiamo il nostro codice di lock, disseminiamo il nostro codice di semafori, mutex, esattamente. Ed è un delirio, ed è un delirio, ed è prono d'errori, fa fatica a scalare e porta un sacco di problemi di conseguenza, cioè fare debugging diventa un casino e roba del genere. L'actor model si colloca in questo scenario, cioè cerca di risolvere queste problematiche e le risolve con la solita trovata dell'uovo di Colombo, cioè cosa dice l'actor model? L'actor model che è una formulazione matematica che non è una declinazione tecnologica, cioè quindi la formulazione matematica dice ok, il mio ecosistema è fatto da attori, l'attore è la più piccola parte del mio ecosistema, un attore può ricevere messaggi da altri attori, può mandare messaggi ad altri attori ed è l'unico modo con cui due attori possono dialogare tra di loro, ok? Un attore può avere un suo stato interno che però non è visibile agli altri attori e l'unico modo che hanno gli altri attori per interrogare o per modificare lo stato interno di un attore è quello di mandargli messaggi, ok? Ma la chicca è che questi messaggi che arrivano ad un attore vengono posizionati in una sorta di coda, ok? E quello che fa l'attore è lavorare in modo single thread, cioè stiamo dicendo abbiamo problemi di concorrenza e quindi risolviamo il problema dicendo lavoriamo single thread, ok? Quindi il giochetto funziona così, all'interno di un attore è tutto single thread, risolvendo i problemi alla radice, quindi dato che lo stato è solo interno ad un attore e non viene condiviso da più attori, noi garantiamo il fatto che non dobbiamo gestire l'accesso concorrente a questo stato proprio perché è l'implementazione che sceglieremo di utilizzare di un actor model che ci garantisce il fatto che quell'attore accederà allo suo stato interno in modo single thread, ok? Quindi risolviamo il problema alla radice. E questa è la formulazione matematica dell'actor model, così è come ragiona l'actor model e ci sono diverse implementazioni, quella la prima e la più famosa è Erlang che nasce negli anni 80, negli ultimi anni è ritornata un po' in auge, non Erlang ma l'actor model in genere e ha preso una nuova implementazione, è stata portata sulla JVM con H e nel mondo .NET negli ultimi anni, ne sono arrivate diverse implementazioni, c'è l'implementazione di H per la piattaforma .NET che è H.NET, quello che vedremo oggi, ma ce ne sono diverse implementazioni, una di queste si chiama Orleans, è un progetto nato internamente a Microsoft e adesso è open source e come costola di Orleans sono nati i Reliable Actor di Service Fabric che è l'altro framework che guarderemo oggi. Quindi iniziamo a capire un attimino che cosa ci mette a disposizione in prima battuta Service Fabric. Chi è che ha sentito parlare di Service Fabric o ha avuto modo di dargli un occhio? Ok, Service Fabric nasce come servizio, giusto per dare contesto, nasce come servizio per la piattaforma cloud di Microsoft, quindi per implementare applicazioni con il paradigma dei microservizi, ma poco ci interessa adesso. Su questa piattaforma Service Fabric mette a disposizione un SDK, tra cui c'è questa implementazione dell'actor model, una sua implementazione dell'actor model e quello che noi possiamo fare è creare degli attori semplicissimi che ragionano così come ci siamo detti prima, ovvero ricevano messaggi dagli altri, dagli altri attori e li processano uno alla volta. Quello che volevo farvi vedere è semplicemente, questa è un'implementazione di un reliable actor, non ci interessa perché l'unica cosa importante da sapere per quanto riguarda l'implementazione dei reliable actor su Service Fabric è che è una declinazione particolare dell'implementazione di actor model perché non è un actor model vero ma è quello che viene definito un virtual actor model. Cosa vuol dire? Vuol dire che in tutte le implementazioni degli actor model tradizionali, se due attori vogliono dialogare tra di loro devono essere live tutti e due, cioè chi manda il messaggio e chi lo riceve devono essere live prima che il messaggio circoli. Nell'implementazione di un virtual actor model, quindi sia su Orleans che su Service Fabric, la logica è che è onere della piattaforma fare wire up dell'attore che dovrà ricevere il messaggio qualora non sia live nel momento in cui qualcuno glielo manda. Ok, questa è la particolarità che ha l'implementazione di Service Fabric, però rispetto a tutte le altre implementazioni, quindi quelle di Erlang e quelle di H sulla JVM o su .NET è molto molto limitato. Quindi quando noi abbiamo iniziato a guardare, quando io ho iniziato a guardare le diverse implementazioni che avevo a disposizione su .NET degli actor model, prima sono andato su Service Fabric ma poi mi sono accorto che leggendo in giro mi stavo perdendo un sacco di feature, un sacco di feature che gli altri framework hanno e che sono quelle che andiamo a vedere adesso. E dopo ritorniamo su Service Fabric. Quindi andiamo a capire che cosa significa creare un attore con H.NET. per H.NET un attore non è altro che una semplicissima classe che implementa una delle classi di H, poco importa. Derivando da questa classe ci portiamo a casa tutte le feature, tutta l'infrastruttura dell'implementazione dell'actor model di H. Però ci siamo detti, allora due attori per parlare tra di loro l'unico modo è quello di scambiarsi messaggi. Ok? Quindi andiamo a capire che cosa sono questi messaggi nell'implementazione di H. Per H un messaggio non è altro che una classe ma la particolarità non è vincolante per il framework. Però dato che è l'unica cosa che due attori condividono tra di loro, cioè io attore A mando un messaggio ad un attore B ma quello che sta interno all'attore A non è visibile all'attore B e non è condivisibile. Quindi l'unica parte che c'è comune tra i due attori è il messaggio stesso. Se noi riusciamo a rendere quel messaggio immutabile garantiamo anche il fatto che l'unico punto di contatto tra due attori non ci dia problemi nel momento di concorrenza. Ok? Quindi diciamo che la best practice nell'implementazione dei messaggi è quella di renderli immutabili. Con C Sharp per rendere immutabile una classe è quella di definire un costruttore di default in cui gli passo tutti i parametri. I parametri vanno ad inizializzare lo stato di questo messaggio e poi questo stato non può essere più cambiato. Questo ci garantisce anche il fatto che da attore ad attore il messaggio viene veicolato ma non potrà mai essere cambiato. Ok? Piccola nota di colore. Abbiamo detto che la prima implementazione dell'actor model arriva da Erlang e poi la seconda più famosa è sulla JVM con Scala. Sia Erlang che Scala su due linguaggi funzionali. Ma la cosa che mi è balzata all'occhio quando io ho iniziato a prendere questo filone è che se voi andate a leggere, a cercare la definizione che Alain Kee diede di quello che per lui era la OOP, la definizione di actor model è quanto di più vicino ci sia, almeno per il mio modo di vedere le cose, alla definizione di OOP. Quindi non stride così tanto utilizzare un linguaggio OOP come C Sharp per fare queste cose. O almeno, non so se è una giustificazione. Il modo in cui possiamo andare a dire ad H, ascolta, io attore counter voglio che quando mi arriva un messaggio di tipo count e vogliamo dirgli che cosa vogliamo fare è questo. Derivando dalla classe di C Vector abbiamo la possibilità di registrare diciamo questa sorta di callback con cui andiamo a distruire l'infrastruttura di H in maniera tale che quando viene mandato un messaggio a questo attore, ad un'istanza di questo attore, questo attore dica ad H che cosa vuole fare effettivamente. E questo niente di che. Quindi nel nostro caso abbiamo un attore che non fa altro che incrementare la sua variabile interna. Abbiamo detto che per un attore può assolutamente avere un suo stato interno, basta che questo stato non sia condiviso con altri attori, se no ci perdiamo tutto il giochetto e niente di male. Quindi giusto perché dopo ci servirà vederlo a console ma poco importa. Questo è l'hello world di H. Quindi definiamo un attore, definiamo quali messaggi questo attore può gestire e che cosa deve fare per gestire i messaggi che abbiamo definito. Ok? Molto bene. Ma come facciamo a far dialogare due attori? Quali sono le API che H ci mette a disposizione per fare questo genere di operazioni? Vabbè, per prima cosa dobbiamo andare a definire l'ecosistema in cui vogliamo che questi attori vivano. Ok? Questi attori non vivono di vita propria ma vivono in quello che nel mondo di H, di H.net si chiama actor system. Quindi la prima cosa che dobbiamo fare nel main della nostra applicazione è quella di andare a definire un actor system. Questo è il nostro actor system e quello che possiamo fare è andare a creare il nostro attore, cioè dire al nostro actor system, ok, istanzia un attore di quel tipo. se vogliamo gli diamo un nome, ma poco importa in questo caso. E a questo punto possiamo andare a dire a questo attore, mandare a questo attore un messaggio. Come possiamo fare? Con il metodo tell. Ok? Questo è il modo di default che abbiamo su H per far comunicare due attori, ok? O comunque per mandare un messaggio ad un attore. Qui iniziano ad entrare in gioco i diversi modi che abbiamo di modellare le cose quando sposiamo un actor model e nello specifico l'implementazione di H. perché? Perché di default questa implementazione è un fire and forget, cioè non possiamo più immaginare di avere la nostra classe che chiama un metodo su un'altra classe, aspetta che questo metodo finisca, perché sta roba non scala, perché se quella classe ci impiega un quarto d'ora a risponderci, noi siamo lì fermi ad aspettare che questa classe ci risponda. Ovviamente tutto il paradigma shifta in quella direzione, cioè dobbiamo entrare nell'ottica per cui noi chiediamo di fare qualcosa a qualcuno, questo qualcuno ci potrà mettere del tempo di cui noi non siamo a conoscenza e quindi noi dobbiamo gestire questo genere di operazioni. Quando poi iniziamo a entrare nel contesto dei sistemi distribuiti e quindi ci mettiamo dentro anche il networking e tutto il resto, bisogna anche entrare nell'ottica delle cose che io posso chiedere a qualcosa a qualcuno e questo qualcuno può fallire e allora devo gestire il time out, devo gestire il fatto che la risposta che mi aspettavo potrebbe non arrivare, devo iniziare a gestire meccanismi di retrai e tutto questo genere di operazioni, però ne parleremo dopo. per intenderci, la cosa da notare di queste poche righe di codice è questa, fare spawn di un attore, cioè questa operazione per intenderci è un'operazione light, la possiamo fare milioni di volte nel ciclo di vita della nostra applicazione perché il peso di un attore, se di peso si può trattare, è bassissimo e anche nell'ottica delle performance fare spawning di un attore è un'operazione molto veloce. La creazione e configurazione di un actor system, in questo caso noi lo stiamo configurando con le configurazioni di default, ma potremmo andare a customizzare tantissimi aspetti dell'actor system, è invece un'operazione che potrebbe essere onerosa, quindi giusto per fare un parallelo, visto che tutti ci avremmo messo le mani, è quando si lavorava con Enibernate, non vi chiedo di alzare le mani perché so che vi vergognate, ma tutti noi abbiamo lavorato con Enibernate, cioè il paragone è quella che era la session factory di Enibernate piuttosto che la session, la session factory di Enibernate una volta nel ciclo di vita dell'applicazione perché era onerosa, doveva capire come far a mappare tutti gli oggetti e così via, ma poi la session era una cosa molto light, idem con l'actor system e gli attori, quindi nel momento in cui creiamo un actor system, un actor system per applicazione e poi tutti gli attori che volete. Ok? Se non ho fatto niente di sbagliato, dal main abbiamo mandato un messaggio al nostro attore, il nostro attore ha incrementato il suo stato interno, ha stampato a video, cosa che ci serve solo ai fini di debug e tutto è finito. Benissimo? Questo è l'entry point, l'hello world di H. Però se andiamo un po' più in là, cioè prima io vi ho detto l'implementazione dell'actor model su service fabric aveva delle feature particolari che era quella di essere virtuale, quindi di non dovermi dare l'onere di creare gli attori prima di mandargli messaggi, ma ci pensava all'infrastruttura, ma mi perdevo un sacco di feature, di quali feature parlavo, una di queste è quella che in H si chiamano behavior, o la possibilità, o meglio detta, la possibilità di switchare il comportamento di un attore a seconda dei messaggi che gli arrivano. Cosa voglio dire? Proviamo a ipotizzare che questo counter actor deve continuare a fare più, 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 più sul suo stato interno finché arriva una threshold massima, quando arriva quella threshold invece ogni volta che gli arriva il messaggio count deve tornare indietro, fino a che arriva una threshold minima, quando arriva la threshold minima deve tornare in su, ok? Quindi vuol dire che a seconda del comportamento che io voglio dare lui deve operare in modo diverso sulla sua variabile interna value. Come si fa su con H a fare una cosa del genere? Con H abbiamo derivando da receiveHactor abbiamo la possibilità di dire voglio definire un comportamento, in questo caso lo chiamo app, giusto per... E che cosa vuol dire? In questo comportamento io vado a dire, molto bene, quando ricevo un messaggio di tipo count e sono nella modalità comportamento app, per intenderci, quello che voglio fare è incrementare la nostra variabile interna. molto bene, ma se la mia variabile interna è maggiore di una threshold, quello che voglio fare è cambiare il mio comportamento, cioè voglio iniziare a decrementare dal prossimo messaggio. Questo qui ovviamente non mi serve più. e quello che possiamo fare qui così è mandargliene più di uno e quindi fare una cosa del genere. Quindi sto usando uno scheduler di H per dirgli ok, ogni 500 millisecondi manda all'attore che abbiamo creato sopra un messaggio di tipo count e il sender in questo momento, cioè chi invia il messaggio non mi interessa. A parte del fatto che di solito se si scrivono le cose correttamente poi funzionano. Adesso tiriamo via e se non abbiamo sbagliato, quello che succede è che il mio attore riceverà n messaggi, quando arriva 10, potevo usare una threshold un po' più bassa, si vabbè quando arriva 11 perché ho fatto maggiore di, lui inizia a decrementare, quindi sta switchando il suo comportamento a seconda dei messaggi che gli sono arrivati. Questo è molto comodo quando si devono implementare dei meccanismi tipo le macchine a stati, cioè sono nello stato A, mi arriva un messaggio, faccio delle elaborazioni, vado nello stato B, ah però sono fallito, chi mi doveva mandare la risposta è fallito, allora ritorno nello stato A. Così diventa molto semplice. Per esempio questa feature su i reliable actor di service fabric non ce l'abbiamo a disposizione e diventa molto comoda perché la vostra implementazione della macchina stati diventa molto lampante nel codice, cioè quando sono in questo stato posso gestire solo questi messaggi, quando sono in questo altro stato gestisco questi altri messaggi e le transizioni di stato sono diciamo gestite da questo metodo B-CAM. Ok. Scusa, c'è sempre all'interno del stesso attore? Perché? Mh? Dimmi? B-CAM cambia al messaggio che deve essere comunque un membro della classe? All'interno dello stesso attore. Esatto, cioè è l'attore iesimo che cambia il suo comportamento a seconda di. Un'altra cosa mutuata da Erlang e ovviamente H lo implementa sulla JVM, H.net lo implementa sul CLR del .NET Framework, è il concetto di gerarchia di attori. Cioè quello che abbiamo fatto noi adesso è abbiamo fatto spawn di un attore che nella gerarchia dell'actor system è a livello diciamo appena appena sotto la root. Ok? Quello che succede è che però per magari gestire un particolare messaggio noi non possiamo schiaffare tutto dentro nello stesso attore. O meglio, una delle best practice è quello di dire spingere il più in basso nella gerarchia le operazioni che hanno un'altissima probabilità di fallire. Ok? In modo tale che adesso andremo a vedere come gestirle però è un attore in basso nella gerarchia che fallisce e la restante parte della gerarchia può fare recovery e capire come procedere a fronte di quel fallimento. Ok? Questa è un'altra delle feature che per esempio sui Reliable Actor di Service Fabric non abbiamo e voi inizierete a domandare ma perché cacchio mi stai parlando di Service Fabric visto che non c'è un cacchio? E adesso ci arriviamo anche a quello. Chiamiamolo così. Questo qui altro non è che un attore come l'altro. Facciamo per esempio un esempio per cui se voi avete visto quando io ho creato il mio messaggio count gli passavo un counter id. Ok? Facciamo che questo counter id sia l'id dell'attore su cui io voglio andare a fare count. Ok? Quindi ne potrei avere, potrei avere più counter in parallelo. Ok? Allora ho bisogno di un qualcosa che mi coordini che faccia da router per sapere a quale counter io effettivamente voglio andare a gestire questa cosa. Facciamo questo esempio show. Ok? Quindi anche questo attore riceverà il nostro messaggio count però lui che cosa farà? Lui non avrà la logica per gestire che cosa deve fare il count. Lui l'unica cosa che fa è dire ok esiste già un counter con questo id? Sì, gli passo il messaggio e lui farà quel che deve fare. Oppure se non esiste faccio spawn di un attore con quel counter id e poi gli passo il messaggio. Quindi diciamo che un po' il pattern che troverete molto spesso è quello di dire chiediamo al contesto in cui l'attore sta vivendo di dargli un suo figlio che ha questo id, questo nome. se questo figlio non esiste, quello che deve fare il nostro coordinatore è quello di fare spawn di un attore di tipo counter actor dandogli un nome e poi il suo compito è finito, quello che può fare è fare il forward del messaggio. Allora, due cose importanti, due cose interessanti su queste poche righe di codice. Se vedete il metodo che utilizzo qui, questo actor of, è lo stesso metodo che avevamo utilizzato nel main quando abbiamo creato l'attore. Ovviamente se creiamo l'attore partendo da system, quello che facciamo è posizionarlo nel livello più alto della gerarchia. Se invece creo un attore partendo dal contesto di un altro attore, quello che sto facendo è creare un attore figlio rispetto al punto della gerarchia in cui l'attore padre era. Questo forward è un modo diverso per passare il messaggio ad un attore perché, praticamente, dato che questo attore coordinatore fa solo da passacarte, quello che fa lui non è, quello che voglio simulare qua, non è il contesto per cui lui passa effettivamente il messaggio a quello dopo, ma io voglio simulare che sia chi ha mandato il messaggio all'inizio che passa il messaggio all'attore finale. Cioè, per intenderci, se quando il counter riceverà il messaggio, il sender di questo messaggio non sarà questo attore, ma sarà l'attore originale. Questo permette di gestire pipeline di comunicazione e poi l'ultimo risponde al primo perché il forward ci permette di mantenere il sender. A questo punto quello che succede è che io qua non devo mandare i messaggi ai miei counter specifici, ma lo devo mandare al mio counter coordinator. Ovviamente lo manderò sempre al counter coordinator che ha questo id, ma per ora non mi interessa. Tutto dovrebbe funzionare come prima. L'attore counter con id 42 si comporterà esattamente come prima. Va su e va giù. Molto bene. Qui adesso abbiamo creato una gerarchia. Ok? Andiamo a vedere solo come facciamo. Adesso all'interno di una gerarchia è facile fare comunicazione. Perché? Perché se sono il padre e voglio parlare con i miei figli, posso dire al mio contesto, mi dai il mio figlio che si chiama XYZ, lui l'infrastruttura di H vi dà la reference alla message queue su cui vengono posizionati i messaggi per parlare con quell'attore e siete a posto. Se da un figlio volete parlare col suo padre non c'è niente di più semplice perché dal contesto avete la proprietà parente, non è altro che il riferimento alla message queue del padre. Ma se invece volessimo parlare tra due attori che non sono nella stessa gerarchia, come possiamo fare? Allora, andiamo a vedere quanto tempo ho. Allora facciamo così. Così non perdo tempo a pigiare tasti. Allora, quello che voglio fare è creare un altro attore in un'altra parte della gerarchia e fare in maniera tale che questo attore possa comunicare con il nostro counter di prima. Quindi mi sono creato un tick actor che riceve un messaggio di tipo tick e quello che fa è andare a parlare con il mio coordinatore di prima dicendogli tieniti il messaggio count. Con H abbiamo questo concetto di actor selection cioè la possibilità di selezionare un attore all'interno della gerarchia perché dovete pensare a questa gerarchia come se fosse per intenderci un file system quindi ho la directory, un altro sotto directory, una sotto directory e la possiamo navigare come se fosse un file system quindi se noi sappiamo in quale punto della gerarchia sta l'attore con cui vogliamo parlare abbiamo un modo di raggiungerlo con questa sintassi per cui abbiamo una simulazione come se fosse un file system. Ok? Tutto funziona tutto compila adesso si legge? Ok, perfetto quindi adesso abbiamo non più un counter solo quindi quello che vedete è il counter numero 4 che ha il D4 e il valore interno che ha quel counter quello che succede è che l'attore TIC comunica con il coordinatore dicendogli dia al contatore 21 di incrementarsi dia al contatore 2 di incrementarsi e così via ok? Molto bene proviamo a fare una cosa del genere però adesso proviamo a far fallire un attore cosa succede quindi no vabbè facciamolo che facciamo prima certo ma la selection ti permette di chiamare chiunque no la selection ti permette di chiamare chiunque di fatti una buona regola ovviamente avendo avendo la possibilità di chiamare chiunque tu potresti fare anche cose tra virgolette non corrette ok? di fatti la buona regola è quella di chiamare solo la root della gerarchia per quale motivo? perché quello è un po' il contratto che ti garantisce il fatto che puoi poi cambiare la struttura della gerarchia senza impattare chi ti chiama la root ok? quindi diciamo che le root della gerarchia sono gli entry point con cui tu puoi da un'altra parte della gerarchia comunicare senza dover per forza conoscere come la gerarchia sotto quella root funziona questo permette a a te di evolvere la gerarchia in base ai tuoi use case però sì tendenzialmente tu se sapessi che in fondo alla gerarchia c'è un attore gli puoi mandare un messaggio allora quello che H e H.net dicono è una cosa che non è esattamente vera ovvero che loro ti garantiscono quella che si chiama location ti garantiscono quella che si chiama location transparency ok? però se mi dai tre minuti ci arriviamo ovvero cioè tu puoi chiamare anche attori che stanno su un altro actor system che sono distribuiti su altre macchine ma non è così transparency come lo vogliono far passare cioè qualcosina devi sapere ok andiamo a vedere se nella nostra gerarchia andiamo ad inserire quello che io ho chiamato fail counter actor cioè sto simulando che un attore fallisca quindi è un counter come quello di prima solo che quando raggiunge il valore 5 al valore successivo sbomba ok? perfetto e giusto per il nostro coordinator gateway di prima quello che fa non è istanziare un counter che funziona ma quello che fallisce andiamo a vedere come funziona lui ovviamente sta facendo sta distribuendo i messaggi tra i vari counter a un certo punto un counter esplode a parte il fatto che esplode perché sono su visual studio e ovviamente le eccezioni vengono cachate lì ma andiamo a vedere se lo lancio da un eseguibile ok a un certo punto dovrei vedere loggata un'eccezione un paio di eccezioni ma il sistema va avanti lo stesso ok? perché che cos'è che ho fatto? praticamente il mio attore che fallisce sta in un punto della gerarchia ok? l'ho spinto l'operazione che poteva fallire l'ho spinta al più basso possibile nella gerarchia quando l'attore fallisce quello che succede è che l'eccezione viene tra virgolette propagata al suo padre ed è onere del suo padre che in questo caso è un supervisor capire che cosa deve fare a fronte del fallimento di uno dei suoi figli ok? di default l'implementazione di H fa questa cosa è fallito uno dei tuoi figli questa diciamo comunicazione notifica di fallimento viene data al padre il padre di default se noi non gli abbiamo detto nulla fa il restart dell'attore che è fallito ok? quindi lo vedete benissimo per cui adesso a un certo punto l'attore con il counter 2 è fallito adesso il 2 dovrebbe ripartire dal valore 1 esatto e lo vedete qua ok? quindi cosa succede? succede che il nostro attore continua ad andare avanti arriva a 5 fallisce tira un'eccezione il padre capisce che c'è stata un'eccezione per questo scenario va benissimo ripartire da 0 e si ricomincia questo ci garantisce full tolerance ma dove è l'istanza da 0? o lo c'è che fanno o c'è no allora quello che succede è questo è che un attore è fatta da due componenti dalla sua message queue cioè la coda in cui vengono accodati i messaggi e poi la logica effettivamente che l'istanza della classe che scoda dove c'è la logica che è quello che succede è che se tu dici se tu dici al runtime di H l'infrastruttura di H che vuoi il restart quello che lui fa è fa una new dell'attore quindi l'istanza è nuova ed è per quello che il value ritorna a 0 ma i messaggi che c'erano in coda di prima non te li sei fumati ti sei fumato il messaggio che è fallito ok scusa? e lo stato interno se non l'hai persistito ovviamente perché l'istanza è nuova quello che puoi fare con H è quello di andare a è quello di andare non ho capito che sto facendo viso studio ok quello che si può fare con H è quello di sovrascrivere il comportamento di default cioè dire io voglio che la strategia di supervisione non sia quella di restart ma qualcos'altro perché ho la sensazione di aver sbagliato qualcosa ok quindi per esempio con H il modo per farlo è quello di fare l'override del metodo supervisor strategy nel quale possiamo andare a dirgli ok guarda io voglio che se uno dei miei figli fallisce resettali tutti cioè farli ripartire tutti da zero ok piuttosto che invece che restart stoppali perché c'è qualche problema ok se io faccio eseguire questo codice qui quello che succede è che nel momento in cui basta che uno degli attori fallisca e tutto ricomincia a contare da uno perché li resetta tutti di nuovo ok domande fino qui del root cosa vuol dire no quello che tu vuoi fare a livello di supervisor è quello di dire è morto un mio figlio con questa particolare eccezione perché adesso vabbè qui l'ho fatta semplice ma qui tu puoi tipizzare l'eccezione e dire questo tipo di eccezione io non la so gestire quindi fai quella che si chiama escalate adesso qua allora questo part arriva viene a qualsiasi punto della gerarchia tu sei viene mandato al parent sopra e il parent sopra se lo sa gestire sa che cosa fare con te se no continua così ok visto che vi ho detto ma i reliable actor non hanno questo non hanno questo non hanno questo ma cosa c'entra service fabric in questa in questa sessione e adesso ci arriviamo il problema è che service fabric viene visto come viene vista per la sua parte che è l'SDK cioè per le funzionalità che mette a disposizione degli sviluppatori per poter interagire con service fabric stesso ok il problema è che è il solito discorso di guardare il dito e non guardare quello che c'è dietro il discorso è che service fabric ha sì questo SDK ma noi non siamo obbligati ad utilizzarlo ma service fabric è una piattaforma ok per intenderci buona parte dei servizi che utilizziamo di Azure tipo Cosmos DB tipo SQL Azure tipo eh tanti altri servizi girano sopra service fabric cioè è una piattaforma pensata per essere reliable per essere scalabile e in più ha un SDK che se vogliamo possiamo utilizzare ma se no possiamo fregarcene altamente ok quindi andiamo a vedere che cosa intendo per questa cosa qua quello che ho fatto qua ho dato allora innanzitutto ho dato al al mio ho fatto evolvere un pochino la nostra applicazione Cina Console che adesso oltre che avere vabbè oltre che scrivere a console è anche è anche un endpoint HTTP quindi a parte il fatto che di chiedere se si è fermato su un breakpoint però qui ho ho un endpoint HTTP che mi risponde giusto per darvi un attimo di contesto quindi ho fatto un po' di salti di branch quindi quindi l'applicazione console che vedevate prima oltre a avere quei counter espone anche un endpoint HTTP con cui posso poi parlare con i miei counter però quello che ho fatto è sono andato a configurare diciamo il pacchetto che Service Fabric vuole per fare deploy di un'applicazione sopra Service Fabric ok sono una serie di file XML tediosi da scrivere purtroppo perché ma è come se doveste avere un Docker file e creare un'immagine da sottomettere a Docker l'output è la stessa cosa invece di avere un Docker file e l'immagine di Docker avete una serie di file XML che descrivono diversi aspetti dell'immagine che volete uploadare su Service Fabric ma l'output è un degli asset che sono comprensibili da Service Fabric quello che succede è che io senza cambiare una riga di codice cioè quindi la mia applicazione Cina Console non sa nulla di Service Fabric ok non c'è nessuna reference qui così che dica voglio fare deploy su Service Fabric voglio utilizzare questa API di Service Fabric voglio 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 quello che posso fare è dire a Service Fabric ok prendi l'output della compilazione dell'applicazione Cina Console impacchettalo come tu sai e poi posso pubblicarlo su Service Fabric adesso io ho un cluster installato in locale sulla mia macchina fatto da 5 nodi per esempio molto bene quello che succede è che lui sta eseguendo un paio di script perché tutta sta roba è ovviamente scriptabile e gli script ce li avete dentro qua ho finito vediamo se ce la facciamo ok perfetto lui adesso ha impacchettato il tutto e l'ha pubblicato su un cluster che io ho in locale ma che cos'è il cluster il cluster non è altro che una serie di nodi possono essere 2, 3, 5, 7 se deployate su Azure avete il minimo di avere 5 nodi se ve lo deployate on premise mettete i nodi che volete ovviamente più nodi avete più possibilità avete di scalare più è full tolerant la vostra applicazione la cosa bella di Service Fabric è proprio questa che non siete vincolati al fatto che dovete metterla su Azure cioè avete un'infrastruttura Windows c'è il runtime di Service Fabric che gira su Windows avete un'infrastruttura Linux avete il runtime di Service Fabric che gira su Linux ma la cosa bella è cioè già avere un cruscotto di monitoraggio di un'applicazione distribuita è tanta roba chi lavora sulle applicazioni distribuite sa che finché tutto funziona è bello quando le cose non funzionano non avete un sistema di monitoraggio è cacca alta si dice dalle mie parti quindi il fatto di avere un cruscotto che vi dica come stanno i nodi come stanno le applicazioni che sono deployate sui nodi e così via senza aver scritto una riga di codice nella mia applicazione perché è il runtime di Service Fabric che lo fa è tanta roba e poi avete anche meccanismi di questo genere cioè la mia applicazione è stata deployata sul nodo 2 ma se io il nodo 2 simulo che fallisca per qualsiasi motivo è il runtime di Service Fabric che prende la vostra immagine così come farebbe Docker Swarm per intenderci niente di nuovo e la sposta su un altro nodo quindi garantendovi HA ok? adesso lui ci impiega un attimo a fare detection però adesso non so se si vede però qui era sul nodo 2 e adesso è sul nodo 1 ok? quindi corso un pochino troppo alla fine però spero di essere stato abbastanza chiaro se ci sono domande sono a disposizione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti la pochino grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ciao grazie a tutti grazie a tutti